Un crescimento di 4% registrato in luna Aki, nostro pape di turismo. Un vista comparativo di 2013 con luna passata mostrò un aumento di 5.7%, lo che è traduzito in 40.000 turisti extra, hasta per me con Iacaba. Ministro di Turismo, tiensi, Fernan. Aruba è il leader per lo che è il desarrollo turistico fuori di merca e ha detegato una tendenza similar nella Sud America Tambi. E Fernan amostra un crescimento nel settembre di 4.44% per lo che tratta di renter ania, che significa che noi stiamo in 5.77%, 5.77% di aumento per lo che tratta di anioare e settembre di ania che comparare con l'anio passato. Nostra pape ha di un'quantità di quasi 40.000 turisti addicinale con la vista Aruba, che è prima di 9 luni di anio passato. Ci sono stati stay-over, 40.000 turisti addicinale. Ademais, ti ha observato il crescimento del bischitto di barco crucero tambi. Nostra pape ha di un aumento di quantità di bischittanti in Aruba, di 87.983 passagero e 37.000 e pico crew member che vengono a nostra pape di al redor. E acaba nel settembre di più o meno di 120.000 persone addicinale con la vista Aruba. Interessante passare cifra di visitanti crucero di temporada a Bowe di mei per settembre. Nostra pape ha di un'quantità di 69.147 passagero a bing di temporada a Bowe, ma 28.526 crew member che vengono a 90.000 di 120.000 turisti addicinale a bing di temporada a Bowe, che vengono di mei per settembre in Aruba. E naturalmente, c'è un'quantità di metà che vengono adicinale con la vista di un'quantità di temporale. Atenzione ora, per il ADR, il average daily room rate per il turista stay over. Il average daily room rate per settembre aumenta con 10.4% di 149.000, sorry, 149.000 dollari di stress, che aveva dato in 2012, nel settembre è un'quantità di 164.000 dollari, e sa qui aumenta con quasi 15 dollari, per il average daily room rate per il hotel. Sta sumamente positivo, non c'è più camber a bordo, ora che non comprate con l'anno passato, l'anno passato, non c'è un'quantità di settembre, l'anno passato, c'è un'quantità di camber, che ora miro qui con il RAF bar, a pesar di un'quantità extra che abbiamo di camber, con l'aumento di ADR, mostra che il nostro RAF bar aumenta con 2%, naturalmente mostra il trend positivo, che il nostro paolo che trattano su turismo. Per notizie di nocci, Emily Hudson.